Nel nome del Padre e del Figlio dello Spirito Santo, Amen. Gesù ti amo con la tua volontà, vieni Divina Volontà a pregare in me e poi offri questa preghiera a te come mia per soddisfare le preghiere di tutti e per dare al Padre la gloria che dovrebbero dargli tutte le creature. Mia Divina Maria ti amo nella Divina Volontà, Regine Immacolata, Celeste e Madre Mia, vengo sulle tue ginocchia materne per abbandonarmi fra le tue braccia, per chiederti i sospiri più ardenti che mi ammetta a vivere nel Regno della Divina Volontà. Mamma Santa, tu che sei la regina di questo Regno, ammettimi a vivere in esso affinché non sia più deserto ma popolato dai figli tuoi. Perciò, sopra una regina a te mi affido affinché guidi i miei passi, nel Regno del Volere Divino e stretto alla tua mano materna guiderai tutto l'essere mio affinché faccia vita perenne nella Divina Volontà. Tu mi farai da mamma e come mamma mia ti faccio la consegna della mia volontà finché me la scambi con la Divina Volontà e così possa restare sicuro di non uscire dal Regno Suo. Perciò ti prego che mi illumini attraverso questa meditazione per farmi comprendere sempre più e sempre meglio che cosa significa Volontà di Dio e come vivere in esse. Ave Maria, piena di grazie, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Padre, ti canto una preghiera Quella che tuo figlio ci ha insegnato per amore Noi ti glori, vi chiamo Noi ti glori, vi chiamo Padre nostro che sei nei cieli Sia santificato il nome tuo Padre Tu sei il mio Re Tu sei il mio Dio Per sempre in te Come un cielo così in terra 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 Da Libro di Cielo, volume 25 21 dicembre 1928 Mare d'amore negli eccessi di Gesù, esempio del mare Il volere divino, raggio di sole che porta alla vita del cielo La divina volontà operante, felicità di Gesù Continua la novena del Santo Natale Continuando a sentire i nove eccessi dell'incarnazione Il mio amato Gesù mi ha tirato a sé e mi faceva vedere che ogni eccesso del suo amore Era un mare senza confine Ed in questo mare si innalzavano onde altissime Nelle quali si vedevano scorrere tutte le anime divorate da queste fiamme Come i pesci scorrono nelle acque del mare E come le acque del mare formano la vita dei pesci La guida, la difesa, il cibo, il letto, il passeggio di questi pesci Tanto che se escono dal mare possono dire La nostra vita è finita perché siamo usciti dalla nostra eredità Dalla patria dataci dal nostro creatore Così queste onde altissime di fiamme che uscivano da questi mari di fuoco Col divorare queste creature volevano essere la vita, la guida, la difesa, il cibo, il letto, il passeggio La patria delle creature E come esse escono da questo mare d'amore Tutto ad un colpo trovano la morte Ed il piccolo bambinello Gesù piange, geme, prega, grida E sospira che non vuole che nessuno esca da queste sue fiamme divoratrici Perché non vuol vedere nessuno morire O se il mare avesse ragione Più che tenera madre Rimpiangerebbe i suoi pesci che gli strappano dal mare Perché si sente strappare una vita che possiede E con tanto amore conserva E con le sue onde si scaglierebbe contro chi ardisse Di strappargli le tante vite che possiede Che formano la sua ricchezza, la sua gloria E se non piange il mare, piango io, dice Gesù Nel vedere che mentre il mio amore ha divorato tutte le creature Esse, ingrate, non vogliono far vita nel mio mare d'amore Ma strappandosi dalle mie fiamme Si esiliano dalla mia patria E perdono il passeggio La guida La difesa Il cibo Il letto Ed anche la vita Come non devo piangere Sono uscite e create da me E divorate dalle mie fiamme d'amore che ebbi nell'incarnarmi Per amore di tutte le creature Come sento narrarmi i nove eccessi Il mare del mio amore si gonfia Bolle E formando onde altissime Strepita tanto che vorrebbe assordare tutti Affinché non l'altro potessero sentire Che i miei gemiti d'amore I miei gridi di dolore I miei singhiozzi ripetuti Che dicono Non mi fate più piangere Diamoci il bacio di pace Amiamoci e saremo tutti felici Il creatore e la creatura Gesù ha fatto silenzio Ed in questo mentre vedevo il cielo aperto Ed un raggio di sole scendere dall'alto Che fissandosi Sopra di me Illuminavano quanti mi stavano intorno Ed il mio sempre amabile Gesù Ha ripreso il suo dire Figlia del mio volere Questo raggio di sole Che si è fissato sopra di te È la mia divina volontà Che ti porta la vita del cielo Nell'anima tua Com'è bello questo raggio di sole Che non solo illumina te E ti porta la sua vita Ma chiunque a te si avvicina E si resta dintorno Sente la vita della luce Perché essa Come sole si allarga dintorno E dà a quelli che ti circondano Il caldo bacio di luce Il suo respiro La sua vita Ed io mi sento felice dentro di te Nel vedere che la mia divina volontà Si diffonde Ed incomincia a battere la sua strada Vedi i mari di amore che tu hai visto Non sono altro Che la mia volontà operante Quando la mia volontà vuole operare I mari del mio amore si confiano Bollono Formano le loro onde altissime Che piangono Gemono Gridano Pregano Assordano Invece quando il mio Fiat Non vuole operare Il mare del mio amore è calmo Solo mormora quietamente È continuo il suo corso di gioia E di felicità inseparabile da esso Perciò tu non puoi comprendere La gioia che provo La felicità che sento È l'interesse che prendo Di illuminare Porgere la mia stessa parola Il mio stesso cuore Per chi si occupa di far conoscere La mia divina volontà È tanto il mio interesse Che io coinvolgo In me E stralipando io fuori di lui Prendo io la parola E parlo io stesso Della mia volontà Operante nel mio amore Credi tu che sia il tuo confessore Che parla in queste sere Che sta parlando al pubblico Sobre nove eccessi del mio amore Sono io che gli prendo il cuore Fra le mie mani E lo faccio parlare Ma mentre ciò diceva Si dava la benedizione E Gesù Ha soggiunto Figlia ti benedico Tutto è felicità per me Quando si tratta di fare Un mio atto Sopra chi possiede La mia divina volontà Perché se ti benedico La mia benedizione Trova il posto Dove mettere I beni e gli effetti Che contiene la mia benedizione Se ti amo Il mio amore Trova nel mio Fiat In te Il posto dove mettersi A svolgere la sua vita di amore Perciò ogni cosa che faccio Sopra di te In te E con te È una felicità che sento Perché so Che la mia divina volontà Tiene luogo Per tutto ciò che ti voglio dare E virtù di moltiplicare I beni che ti do Perché essa è la nostra faccendiera E si occupa di formare tante vite Per quanti atti facciamo Con la creatura Dove essa regna Dopo di ciò Stavo facendo il mio giro Nel Fiat divino E riandando ai primi tempi Della creazione Per unirmi agli atti Fatti dal nostro padre Adamo Nello stato di innocenza Per unirmi con lui E seguire dove lui lasciò Ed il mio amato Gesù Muovendosi nel mio interno Mi ha detto Figlia mia Nel creare L'uomo Diede un universo visibile Dove doveva spaziarsi Vedere le opere Del suo creatore Fatte con tanto ordine D'armonia Fatte per amore suo Ed in questo vuoto Fare anche le opere sue E come le diede Un vuoto visibile Così le diede Un vuoto invisibile Più bello Ancora per l'anima sua Dove l'uomo Doveva formare Le sue opere sante Il suo sole Il suo cielo Le sue stelle E facendo eco Il suo creatore Doveva Riempire questo vuoto Di tutte le opere sue Ma siccome l'uomo Scese dalla mia divina volontà Per vivere Della sua Perdette l'eco Del suo creatore Ed il modello Di poter copiare Le opere nostre Quindi si può dire Che non ci sono Altro in questo vuoto Che i primi passi Dell'uomo Tutto il resto È vuoto Eppure deve essere riempito E perciò aspetto Con tanto amore Chi vive E deve vivere Nel mio volere Che sentendo la potenza Del nostro eco Ed avendo presente I nostri modelli Si affretteranno A riempire Questo vuoto invisibile Che con tanto Amore Diede nella creazione Ma sai tu Qual è questo vuoto La nostra volontà Come diede un cielo Un sole Alla natura Così del cielo E il sole Del mio fiat All'anima E quando ti vedo Mettere i tuoi passi Appresso i passi Di Dama innocente Dico Ecco finalmente Il vuoto Della mia divina volontà Incomincia a ricevere Le sue prime conquiste E le prime opere Della creatura Perciò si attenta E segui sempre Il tuo vuoto Nel mio volere divino Bene Cominciamo la meditazione Di questo brano Abbastanza articolato In vari punti Distinti Vediamo Un po' Come il signore Ci aiuta A rimettere Un pochino Di Di ordine Di filo logico In essi Allora cominciamo Dal primo Ecco Il contesto Siamo al 21 dicembre La novena di Natale Che Per un regalo del signore Sta accompagnando Un pochino Anche il nostro tempo Certo Gli iscritti Stanno un po' Più avanti La prossima meditazione Sarà del 25 dicembre Probabilmente Sarà domani Quindi ci anticipa Un po' Però magari Queste meditazioni In questi giorni Forse ci stanno Aiutando un po' Anche a Entrare un po' Nello spirito Dell'avvento Del Natale Ovviamente Con Sempre con L'invito Fatto nei giorni scorsi Ecco Di Fare un pensierino A vivere La novena del Natale Risentendo Ecco Questi Prodigi Dell'incarnazione Che Davvero Tanto Fanno gioire Fanno sussultare Il cuore di Gesù E quindi Certamente Devono far sussultare Anche il nostro Allora Qui La prima immagine È quella Delle 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 onde Altissime Utilizzando Come metafora Quella del pesce Che vive Nelle acque del mare Pesce che vive Nelle acque del mare Se esce Dalle acque del mare Tanto semplice La sua vita È finita Perché un pesce Non può vivere Al di fuori Delle acque del mare Sarebbe come se Noi uscissimo Dall'atmosfera Cioè In un posto Dove non c'è Ciò che abbiamo Bisogno di respirare Io adesso Non faccio il medico Non ho idea Di quanto tempo Si possa stare Senza respirare Forse i grandi sommozzatori Sanno qual è Il tempo massimo Dell'apnea Però insomma Non credo che sia Più di 5-10 minuti Presumo Insomma Ecco Moriremmo Eh Gesù dice Il problema è che La stragrande maggioranza Del genere umano Sono tutti morti Sono Perché l'habitat L'habitat naturale Per volontà di Dio Perché Perché Lui ci ha fatti così Della nostra anima Qual è Domanda retorica È Gesù È il suo amore È la sua divina volontà È E quindi Gli esseri umani Nella stragrandissima maggioranza Purtroppo Vivono Come pesci Fuor d'acqua Cioè È un pesce Un pesce Fuor d'acqua È un pochino Tristi Quando Disgraziatamente Un pesce Che ne so Si ritrova Arenato Arriva No Quando viene preso Una rete Si dimenano Poverini Si agitano Un po' Boccheggiano Come si dice Boccheggiare È proprio Il gesto tipico Del pesce E poi dopo un po' Muoiono Non c'è niente da fare Fuori dall'acqua Non vive un pesce Immaginiamo Tutta questa montagna Di esseri umani Boccheggianti Ahimi E attenzione Boccheggianti Non perché qualcuno Violentemente Li ha trascinati Fuori dal suo abito Dal loro habitat Chiedo scusa Ma perché Si sono chiamati Out Si sono chiamati Fuori E qui certamente Gesù soffre Di più Per quel Tuttora esistente Insomma Oltre un miliardo E duecento milioni Credo che siano i cattolici Insomma Certamente non è Una cifra eccessiva Considerando i sette miliardi Negli abitanti Del pianeta Terra Insomma Quindi è Circa Circa un sesto Della popolazione mondiale Pochi Però anche tra questi Che sono Comunque un miliardo E duecento milioni Ma quanti Fanno vita Bella Quanti fanno vita Nel mare d'amore Dice Gesù Bellissimo Questa immagine Il mare d'amore E ci starebbero Delle fiamme D'amore Che arrivano Fino in paradiso E queste fiamme E queste fiamme Dice Gesù Sono la vita La guida La difesa Il cibo Il letto Il passeggio E la patria No ci fermiamo Su queste parole Ce le gustiamo Un po' E chi si strappa Da queste fiamme Perde Dice Queste fiamme Sono la vita La vita Tutti cerchiamo La vita Tutti Viviamo la vita Biologica Ma tutti Cerchiamo la vita Questo Tante volte L'ho detto anche Numerevoli Forse volte Durante Le varie Occasioni Per la verità Abbastanza numerose Perché pare che Il nostro Signore Da me Chieda questo Di predicazione Che cos'è la vita La vita Vita è sinonimo Di quella che noi Chiamiamo magari Felicità Perché Ci sono alcune espressioni Che non ci possono ripetere No però Che brutta vita Si dice Ci sono delle espressioni Insomma anche molto Molto colorite Insomma per indicare Una vita brutta Che non si possono E non si devono Non solo ripetere Ma Neanche pensare In maniera consentita L'espressione di questo genere Però Magari Una riminiscenza Per capire il senso Di quello che stiamo dicendo Ecco Ce la possiamo anche Concedere No E poi c'è la bella vita Che bella vita Insomma No I rari momenti In cui L'uomo Gusta qualcosa di bello E che dice Quanto è bella la vita Gesù è la vita Ed ha la vita Lui l'ha detto Nell'Evangelo Io sono la verità E la vita Io sono venuto Perché abbiano la vita E l'abbiano in abbondanza Io do loro La vita eterna E nessuno può sottrarle Dalla mia mano La vita eterna No La vita eterna E Attenzione Noi quando pensiamo Alla vita eterna Pensiamo Alla vita dell'aldilà Non è così La vita eterna Una cosa che è eterna È imperdibile Una cosa che è eterna Non può Non può finire Oltre che non può Nemmeno cominciare Quindi il fatto che Gesù ci dice Che ci dà la vita eterna Non dice Io darò loro La vita eterna Dice Io do loro La vita eterna Quando parla delle sue pecole Io la do adesso Non dopo Quindi che cosa significa Significa che La vita che Gesù ci dà Che comincia qui Non ce la può togliere nessuno La vita bella La bellezza della vita Niente e nessuno Non si insiste mai A mio avviso Sufficientemente E abbastanza Ripeto Siamo in contesti Anche quest'anno Anzi se possibile Sono peggiorati Rispetto al Al passato Perché oltre Alle chiamiamole Disgrazie Diciamo oggettive Ecco che Si stanno vivendo In maniera nota Adesso ci stanno anche Tutta quanto una serie Di disposizioni Vessatorie Nei confronti Di molte persone Quindi che Insomma Causano non poche Sofferenze E Dolori Sotto vari punti di vista Tu dici È possibile Parlare di vita In questo contesto Per certe persone Che hanno fatto Certe scelte Rispettabilissime Ovviamente Sì La risposta è sì Perché Gesù È la vita E dà la vita E ha la vita E chi è con lui Nessuno potrà togliere loro La vita che gli ho dato Nessuno può toccare Solo che La domanda è Noi viviamo Dentro queste onde Altissime Di fiamme Punto interrogativo C'è quell'altra bellissima Espressione di Gesù Nei Vangeli No? Ma voi non volete Venire a me Per avere la vita Una delle Polemiche Con i Giudei Descritte Nella Vangelo Di San Giovanni Voi non volete Venire da me Per avere la vita Eh Guaio Oltre che la vita La guida Tutti cerchiamo Una guida Molti cercano La guida Spirituale No? Per carità La guida spirituale Se capace Di farla Questo se È molto importante Perché non si può dare Per scontato È un riferimento Importante Ma è la guida Che Come dire È la rappresentazione Visibile Della grande guida Cioè Noi con la guida Spirituale Non è che la guida Spirituale Ci sta dietro Se ce l'abbiamo 24 ore su 24 In ogni istante Ti imbecca E ti dice Tutto quello Che devi fare No? No Ma ci abbiamo La guida Perpetua Se vogliamo Di domini Dio Noi abbiamo Ininterrottamente La vita da vivere Ininterrottamente Le decisioni Da prendere Ininterrottamente Le scelte da fare Nel piccolo Come nel grande No? Chi ci guida? Punto interrogativo E come facciamo Ad essere sicuri Che sia Il signore A guidarci No? Perché Mi guida il signore Speriamo Non possiamo mai essere Ovviamente sicuri No? Quindi però Se ci mettiamo Dentro certi orizzonti Possiamo Sperare Che Affidandoci Alla sua guida Sia lui A guidarci Ancora La difesa Chi ci protegge Chi ci difende Dal male Dai pericoli Dalle disgrazie Dai nemici Dai persecutori Chi ci difende? La difesa Il cibo Chi è che ci nutre? Chi è che ci dà Da mangiare Adesso Lo spauracchio Del non avere Da mangiare No? Per carità Nessuno sta dicendo Che non sia una cosa Molto molto seria Lo è Ma noi sappiamo Ma noi sappiamo che ci sono stati Dei santi Che per esempio Sono vissuti soltanto Di eucaristia Sappiamo che Credo che sia San Damiano Piacentino Madonna stessa Ha offerto Un sacramentale Alla fede Dei fedeli La famosa uva Di San Damiano Chi vuole Approfondirla La trova tranquillamente Online Dove la Madonna Stessa Io questo l'ho saputo Non tantissimo tempo fa E non ho nessuna difficoltà A credere Una cosa del genere Anche se poi Liberi di Di sì oppure di no Dice che la Madonna Ha insegnato di fare questa cosa Perché nei tempi in cui Dovessero esserci Carestie Quindi impossibilità Di mangiare Un acino di uva Preparato Nel modo Come la Madonna Dice Con tutte quante le benedizioni Eccetera Ti dà il sostentamento Per un giorno Cioè Adesso A prescindere dal fatto In sé Uno può crederci Non crederci Eccetera No ma La dinamica È tutta divina D'accordo Cioè Perché La provocazione Di una cosa del genere Ma tu ci credi che Tu c'è tanto paura del cibo Dice Ah Devo fare Devo fare per forza Qualche cosa Perché altrimenti Non mangio più Sei sicuro Che non mangi più? Se è questo Insomma Quello che ti Che ti muove Te lo sei dimenticato Il Vangelo Che guardate Gli uccelli del cielo Che pure Il padre vostro Li alimenta Te lo sei dimenticato San Francesco d'Assisi Ha vissuto una povertà Estrema Non voleva neanche Tenere in mano I soldi San Francesco d'Assisi Non ha mai maneggiato Neanche un centesimo Ma non è morto di fame San Francesco d'Assisi È arrivato Fino a 46 anni Insomma E non è morto di fame Eppure dei digiuni Se ne è fatti Un bel po' Tra lui e Santa Chiara Santa Chiara addirittura Ha capato Quasi 70 anni Insomma E si è ammalata Perché Lei ci ha fatto Questi digiuni Un po' particolari Un giorno digiuno assoluto Cioè non si mangia Niente Il giorno dopo Pane e acqua Ininterrottamente Dopo 4-5 anni Chiaramente l'organismo Non regge una cosa Di questo genere Se ne è stata letta Per tutta la vita Ma non è morta di fame Però Il cibo È quasi finita la meditazione Pazienza Un sacco di cose Da meditare Il letto Il letto Che significa Dove riposiamo Ci sentiamo sempre agitati Turbati Presi da mille preoccupazioni Da mille pensieri Quante persone Che contattano anche Questo povero predice Io non dormo la notte Io non dormo più la notte Che significa Non dormo la notte Che significa Che non trova riposo Eh E questo letto Offerto dalle fiamme Della divina volontà Ma che cosa sono queste qui Sono Come dire Espressioni poetiche Che usa Gesù Cioè Tanto per Per dire qualcosa Per dare un contentino Dice ma sì Diciamogli insomma Che qualche cosa In qualche modo Li consoliamo O sono Cose vere Sarà vero Che la divina volontà Si fa a nostro letto E quindi Che in essa Possiamo riposare Senza Sentire Il turbamento Profondo Di quelle preoccupazioni Che appunto Quando ti prendono Non ti fanno dormire la notte Ma i figli di Dio La notte Dormono E come? Dormono in braccio La divina volontà Ancora Il passeggio Il passeggio Sappiamo che il passeggio È un momento di distensione Per noi No? Bisogna fare una passeggiata Quando ci vogliamo Distendere un po' Io questo l'ho detto In altre circostanze Ma noi ci crediamo Che la divina volontà Provvede anche Al nostro divertimento Usiamola questa parola Perché il divertimento In paradiso Sono tutti quanti divertimenti Sono divertimenti santi Qui dobbiamo moderarci Ma noi ci crediamo Che Dio provvede Anche ai nostri divertimenti Innocenti Ovviamente Leciti Sani Lui lo sa Che ogni tanto Abbiamo bisogno Di distenderci un po' E di divertirci santamente Ma Negli scritti C'è scritto Che Dio gioca con noi Gioca con noi Gioca Ti ha scritto che gioca Il gioco Il gioco È proprio l'immagine Per antonomasia Del divertimento Dio non è che condanna Il divertimento Ti ripeto In paradiso È un divertimento Ininterrotto Per chi Solo che non dobbiamo Pensare ai divertimenti Ovviamente I divertimenti pesci Insomma O i divertimenti Peccaminosi ancora C'è un modo Di divertirsi Una bella passeggiata È un bel divertimento Una bella passeggiata Ci sono tanti I bei divertimenti Ci crediamo Che il Signore Provvede pure a questo Te fa pure a divertire Un po' E infine La patria Delle creature La percezione La patria che cos'è? La percezione Di stare a casa tua In quell'habitat Familiare Chi è stato all'estero A me successe Tanti anni fa Lo racconto sempre Andai a fare un'esperienza Ormai Passati quasi 30 anni Insomma Di missionaria In un paese Molto povero Dell'America Latina Per come ero fatto allora Sicuramente non avevo Una maturazione Per me è stato Mezzo trauma Insomma Ma il trauma Proprio del trovarti In un ambiente Completamente Stradiverso Con lingue diverse Usi diverse Cucina diversa Orari diversi Stili di vita diversi Non stai a casa tua Lo senti che stai In un ambiente straniero Io ricordo ancora La sensazione Quando l'aereo Al viaggio di ritorno Quando ho visto Le coste Dell'Italia Dall'aereo Ho avuto un sussulto Al cuore Attraverso questa esperienza Io ho capito un po' Che cos'è La bellezza Della patria Tanto vi duperate Insomma Ma è sempre La nostra patria È La vita La guida La difesa Il cibo Il letto Il passeggio La patria Delle creature Ecco Sono passati 31 minuti La meditazione è finita Pazienza Insomma Il resto ce lo Farà meditare Lo Spirito Santo E Gesù dice Attenzione Il mare Se esce il pesce Non piange Ma io Se I figli miei Escono da tutto Questo ben di Dio Che ci ha Portato Per colpa mia Mi sono dilungato A meditare Per 20 minuti Solo su questo Io piango E come Io piango Io piango Tanto Dimorate Da queste fiamme D'amore Che io glielo Date nell'incarnarmi Questo mare di amore Con tutti questi beni Che gonfia Si gonfia Bolle Forma onde altissime Quelli di cui abbiamo Meditato E vorrebbe Darle a tutti E che cosa Faccio gemiti D'amore Faccio Gritti di dolore Faccio Singhiozzi Perché queste cose Qui Tutti le desiderano Ma nessuno Le va a cercare Dove si trovano Cioè In Gesù Che ce li metta A disposizione Non mi fate più piangere Diamoci il bacio di pace Anniamoci Saremo tutti felici Il creatore E la creatura Quindi abbiamo Meditato soltanto Sulla prima parte Di almeno quattro Che ce n'erano In questo scritto E oggi è andata così La fidiamo al Signore Facciamo come sempre Un po' di silenzio E poi Le preghiere conclusive Di questo tempo Di meditazione Grazie Ecco Ti rivolgiamo Un grandissimo grazie Signore Gesù Che oggi ci hai portato In questi mari Altissimi Fiamme Dell'amore divino Che tu tanto Desideri Donarceli Fino a divorarci Cioè Con esse Quindi a A farci vivere In questo mondo Che è un altro mondo Rispetto a quello In cui In cui viviamo Ecco perché Tu nel Vangelo dicevi Sì Loro sono nel mondo Ma non sono del mondo Ah sì Certamente Siamo Fino a quando Possiamo Stiamo in questa In questa terra Certamente Qui abbiamo Una missione Da compiere Signore Gesù Ma Lo facciamo Molto molto Volentieri Ma noi siamo Altrove Siamo qui Ma non siamo qui Chi vive Nella Divina Volontà Questo lo sa Molto bene Lo sa Siamo qui Siamo fino in fondo Qui eh Non per scherzo O per finta Ma non siamo qui Bene Bene che almeno noi Questo te lo chiediamo Con tutto il cuore Che almeno noi Insomma Non siamo Tra coloro Che ci mettono I carichi da undici Che ti fanno piangere Un altro po' Più Di quanto già Purtroppo Piangi a causa Dell'ingratitudine Di tanti nostri Fratelli e sorelle E concedici Ecco Di poter Ricevere Tutte queste fiamme Con cui facciamo Un regalo Immenso a noi stessi E almeno evitiamo Di farti piangere E di darti la gioia Di poter Realizzare Tutto ciò Che di buono Tu vuoi Per ciascuno di noi Nella Divina Volontà Nel nome del Padre E del Figlio E dello Spirito Santo Amen Ti benedico Per aiutarti Ti benedico Per difenderti Ti benedico Per perdonarti Ti benedico Per liberarti Da ogni mare Ti benedico Per consolarti Ti benedico Per farti santo Ti benedico dunque Nella Divina Volontà Nel nome del Padre E del Figlio E dello Spirito Santo Amen Fiat Ave Maria